carissimi pace e buona giornata a tutti quanti voi leggiamo nel vangelo di giovanni a capitolo 21 i versi da 8 fino a 14 sono dei versi molto belli dove vogliamo soffermarci stamattina per poter trarre degli insegnamenti sicuramente i discepoli avevano presso una decisione che non era secondo il piano e la volontà di dio erano tornati a pescare e questo perché probabilmente nel loro cuore pensavano che la morte di gesù avesse determinato la fine di quella esperienza straordinaria che avevano vissuto per tre anni ma gesù non era dello stesso avviso il signore infatti si interessava ancora a questi discepoli e desiderava che fossero rinvigoriti nella fede e così il maestro li chiama e li chiama figliuoli se leggiamo il vangelo di giovanni scopriamo che li ha chiamati fratelli li ha chiamati amici adesso li chiama figliuoli proprio a mettere in evidenza l'affetto la tenerezza che egli è nute nei loro confronti ma anche ricordando che ora dopo che egli è risorto o egli è diventato anche il loro salvatore quindi sono diventati per grazia figli di dio in adempimento a quello che è scritto al verso 12 del capitolo 1 di giovanni stesso a quanti lo hanno ricevuto cristo si intende e gli ha dato il diritto di essere chiamati figli di dio e gli si era reso conto dello smarrimento sicuramente lo conosceva già prima perché era un adempimento delle profezie sarebbe stato colpito il pastore e le pecore si sarebbero disperse e proprio per questo ora da pastore li richiama li richiama a sé vuole ricostituire quell'ordine quell'unione quell'armonia che si era un po persa a causa della sua morte della sua crocifissione e che ora si stava ritrovando sì ma si stava ritrovando in una direzione sbagliata per tornare indietro per riprendere la vita di prima si preoccupa di raggiungerli proprio nel momento forse più triste più buio della loro vita dopo aver incontrato il maestro c'è un momento di delusione di stanchezza di depressione anche spirituale perché si sentivano svuotati per l'assenza del loro maestro e si sentivano delusi dal fatto che la pesca non era andata bene quindi anche il loro programma di tornare a svolgere il lavoro di prima sembrava essere andato in fumo si preoccupò il signore di loro io credo che ancora oggi il signore si preoccupa di quanti hanno deciso di accettarlo nella loro vita si preoccupa quando li vede delusi e li vede desiderosi di tornare indietro si preoccupa quando li vede stanchi si preoccupa quando li vede smarriti si preoccupa quando li vede in confusione si il signore si preoccupa e non soltanto si preoccupa ma si avvicina e chiama chiama con la sua dolce voce figliuoli una voce che stamattina si rivolge anche a te figlio mio figlia mia dove stai andando che decisioni stai prendendo torna a me torna alla primo amore torna alla consacrazione torna alla dedizione torna al servizio torna ad essere un qualcuno che mi sta vicino e che mi cerca e che ripone la sua speranza e la sua fede in me sì io credo che questo sia il pensiero la voce che dio vuole rivolgere a quanti si trova in un momento di difficoltà in un momento in cui non riescono a vedere nulla di buono per il loro futuro sia in termini materiali ma anche in termini spirituali l'amore e l'interesse di gesù si manifestano in questo testo in modo chiaro evidente ma anche in modo progressivo perché prima appare discepoli poi si fa riconoscere con l'autorità della sua parola poi li nutre col cibo che lui ha preparato e infine conferisce loro un incarico l'incarico di andare ad annunziare la sua parola ed essere suoi testimoni e quello che il signore vuole fare nella tua vita è proprio questo si vuole riconfermare il signore come colui che vuole usarsi di te per la sua gloria per la benedizione di quanti ti stanno intorno e per fare questo egli ti vuole nutrire ti vuole nutrire con la sua parola ti vuole fortificare con la sua presenza col tuo santo spirito anzi ti vuole invitare ad avvicinarti a quel fuoco acceso dove il cibo viene preparato si vuole che tu possa tornare ad essere fervente abbandonando ogni tiepidezza ogni freddezza che stanno limitando la tua gioia spirituale perché in questo momento l'anima tua è arida e tu hai bisogno di andare a quella fonte di acqua viva che cristo gesù che è capace di rissetare e di togliere via tutto tutta la nebbia che sta opprimendo la tua mente il signore ti cerca ti cerca perché è interessato alla tua vita interessato al tuo presente interessato al tuo futuro signore ti cerca perché come ho detto all'inizio non ha rinunciato al programma che ha per la tua vita e lui ancora vuole servirsi di te malgrado la tua fragilità malgrado la tua debolezza malgrado tutto egli vuole servirsi di te perché il signore non si serve dei forti non si serve dei valorosi non si serve dei grandi personaggi di questa terra signore sceglie le cose semplici le persone semplici per renderle forti le persone che sono senza successo su questa terra per dargli una vigore una forza tale che gli permetterà di poter mettere sotto sopra il mondo mediante la predicazione del vangelo coraggio caro che mi stai ascoltando coraggio riprendi il tuo cammino ritorna a camminare nelle vie della grazia possa l'anima tua da questa mattina tornare ad essere piena di fede di fervore e di amore per il tuo salvatore che la grazia del signore ci accompagni durante questo nuovo giorno e che questa parola possa portare frutto nella vita di quanti mi state ascoltando affinché veramente possiamo essere tutti insieme una chiesa la chiesa del signore con la c maiuscolo una chiesa impegnata per poter dare ascolto alla voce del maestro mettendo da parte ogni cosa e ricordandoci che la cosa più importante non sono le cose di questa terra ma le cose celesti verso le quali ci vogliamo protendere con la consapevolezza che esse sono eterne e che tutto quello che avremmo fatto per il signore un giorno riceverà una ricompensa da colui che il giusto giudice che è la grazia di dio la sua pace il suo amore la sua guida il suo aiuto la sua forza ci possano accompagnare in questo nuovo giorno pace il signore ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti